Ciao ragazzi, io sono Julius Night 5 Gamer, oggi non mi occuperò di Pokémon ma di Mario Strikers, infatti in generale i videogiochi mi piacciono tutti, i Pokémon li adoro particolarmente però mi lascio andare anche a tantissimi altri. Oggi Mario Strikers parlerò della Coppa Strikers, la più difficile in assoluta del gioco, per la precisione la finale assoluta con il detentore della Coppa Strikers che ha Piedino. Perdonate questa prima immagine, abbastanza stretta, in cui si vede, sono tre partite di questa finale, la prima è stata vinta la Piedino per 3-0, come potete vedere le statistiche, la seconda miracolosamente con un mio tiro di Waluigi, giocatore che in persona, per 4-3 appunto. E adesso ne ho presto a combattere per il titolo la terza e ultima partita. Vediamo come andrà, ragazzi pregate per me e dovrete più video. Finalissima Incrocciamo ste dita Chi vince questa vince la Coppa, signori Andate qua di roba Che vediamo qui Oppa No No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! 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 Esci! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no!